Siamo felicissimi e felicissime di accogliere qui con noi Francesca Gabriellini e Silvia Pizzirani, co-curatrici del volume che ho qui tra le mie mani. È la prima presentazione in assoluto di questo numero speciale, quindi a maggior ragione siamo contenti. E anche di vedere che c'è un'ottima partecipazione nonostante le condizioni atmosferiche non particolarmente favorevoli al camping. Allora, io sono Lorenzo Feltrin, modererò il dibattito e comincio subito chiedendo a Silvia e Francesca qual è la genesi di questo volume, qual è l'idea che vi ha portato a decidere di curarlo e quali sono i contenuti che i lettori e le lettrici possono aspettarsi. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie mille Lorenzo per l'introduzione, grazie mille a tutte e tutti voi che state in questi giorni animando il Climate Camp, anche con il meteo avverso e grazie mille per l'accoglienza. E per cominciare a parlare di questa special issue, di questo volume speciale dedicato al petrolio, dico una parola su come ce lo siamo proposte io e Silvia, che veniamo entrambe dall'Università di Bologna. Io sono ancora all'Università di Bologna, mentre Silvia adesso è a Milano. Siamo due storiche che da prospettive diverse si interessano anche di questioni ambientali e mai come nell'oggi è importante lo scavo storico, oltre che sociologico, con anche gli strumenti dell'ecologia politica per capire, per trasformare soprattutto il presente. E quindi dalle nostre prospettive differenti, ormai in pieno 2023, ci stavamo appunto interrogando sul fatto che si avvicinasse questo cinquantenario dal primo grosso shock petrolifero, che il nostro paese, come tutto, diciamo il nord globale, appunto ricorda come tale e che forse per la prima volta aveva portato agli occhi delle persone, non solo degli esperti, insomma, e non solo delle lavoratrici, di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che nei propri luoghi di lavoro si stavano interessando, preoccupando e stavano lottando per migliorare appunto le proprie condizioni di lavoro dal punto di vista ambientale. Ecco, il primo shock petrolifero allarga la questione, la porta sotto la luce di tutti e quindi l'idea, insomma, di questo, come dire, questa data simbolo ha dato origine appunto al lavoro, a proporre il lavoro per realizzare questo numero e per, appunto, per cercare di portarci dentro più e più sguardi, soprattutto di carattere storico e di riflessione storiografica, che appunto da questa data più o meno simbolica potessero aggredire il presente. Come ci abbiamo lavorato attraverso uno sguardo più multidisciplinare possibile, ora do subito la parola a Silvia per magari entrare più nel dettaglio di questo aspetto, ma abbiamo voluto fortemente che una ricostruzione della storia del petrolio fosse una rassegna, fosse un approfondimento sulle storie del petrolio, che significa geografie differenti, che significa soggettività differenti, in lotta per smarcarsi dall'egemonia, non soltanto concreta del combustibile fossile, ma anche da quella culturale di tutti i prodotti e sottoprodotti che dal petrolio si generano e che non c'è da spenderci troppe parole, insomma, costellano, innervano, caratterizzano profondamente la nostra contemporaneità. Quindi nel volume di Zapruder troverete una storia, troverete, come dire, una ricostruzione attraverso i nostri strumenti di storiche, ma anche tante autrici e tanti autori che a partire dalle loro discipline hanno voluto contribuire insieme a noi a creare un repertorio di storie geopolitiche, culturali, a partire appunto dal petrolio come simbolo e non soltanto come appunto materia concreta. Grazie Francesca, grazie appunto di averci permesso di essere qua, di averci dato questo spazio. Per me è la prima volta che vengo qua, è una realtà fantastica, devo dire. Quindi grazie anche a voi che l'animate. Aggiungo giusto due cose a quello che ha detto Francesca. Di base uno dei presupposti da cui siamo partite, appunto, cioè una delle grandi domande perché è così difficile immaginare anche una realtà oltre il petrolio, no? E proprio per capire questo, da questa domanda siamo arrivati alla conclusione che era necessario dare grande spazio alle prospettive anche culturali perché il problema della nostra realtà, cioè di questo legame così forte è che in realtà il petrolio non è solo appunto infrastruttura, non è solo chimica e produzione di materiali, ma è cultura. Cioè la petroculture, ormai appunto la cultura del petrolio, è qualcosa che ormai è talmente insito nelle nostre abitudini, dà talmente forma a quello che facciamo che è molto complicato se non si affrontano le radici, come questa cultura è cambiata, cosa è oggi, se non si decodifica, decostruisce, scusate, tutto questo è complicato andare oltre. Infatti nel nostro editoriale abbiamo a un certo punto citato questa studiosa di studio umanistici e ambientali, Stephanie Lemenagier, che lei dice la petrocultura è il paesaggio dei centri commerciali suburbani, è il complesso autostradale, è persino nell'inchiostro con cui verrà stampato questo numero, la petrocultura è ovunque, è dentro i miei denti, nei polimeri complessi che sono le otturazioni, e nei miei vestiti scorre nel mio corpo, la petrocultura sono io e forse siete anche voi. Quindi partendo da queste riflessioni abbiamo quindi deciso che era ovviamente importante dare spazio a quelli che sono i movimenti sociali e politici che si sono rapportati alla questione fossile, anche perché comunque Zapruder è una rivista di storia della conflittualità sociale, quindi per noi questo restava centrale, però ci interessava appunto mostrare come la pervasività dell'elemento petrolio anche da un punto di vista sociale e culturale e volevamo anche in questo andare a ragionare sul petrolio nella sua duplicità di essere un simbolo della modernità, però essere anche un elemento antichissimo, cioè questa ancestralità del petrolio che comunque nasce milioni di anni fa in sottoterra appunto grazie a questioni, a movimenti fisici, geologici enormi e antichissimi e quindi questa ambivalenza che poi in certo senso si traduce oggi anche nel fatto che gli artefatti del petrolio, la plastica, sono i nostri nuovi fossili, quindi che c'è anche una nuova archeologia ormai legata al petrolio. Quindi queste sono alcune delle domande da cui siamo partite che poi hanno dato forma al volume e Zapruder ci è sembrato un posto giusto in cui proporre questa idea perché i loro testi, se poi appunto volete dare un'occhiata e passarvi un numero così vedete un po' com'è fatto, sono strutturate in modo che c'è molta l'interdisciplinarità, è molto possibile, si possono usare varie forme comunicative, il fumetto, le immagini, le analisi cinematografiche e quindi ci piaceva questa idea qua, quindi questo mezzo qui per portare avanti questo progetto. Non so se possiamo dare qualche altro spunto sul numero e poi giusto per riprendere le parole di Silvia e provare a fare una piccola carrellata di quello che si può trovare in questo numero per darvi un'idea di come l'interdisciplinarietà, come lo sguardo multidisciplinare ce lo siamo immaginate noi perché poi è stato anche interessante nella discussione insieme alla redazione della rivista vedere come a partire magari dalle angolature proposte da noi per aggredire il problema quante altre ne venissero fuori, quante altre fossero possibili. Noi abbiamo cercato di concentrare nella prima parte che è dedicata agli articoli Zoom, sono gli articoli più lunghi come numero di parole, tre contributi che guardassero, a un lato, alla rappresentazione del petrolio, in particolare nel cinema, quindi dalla rappresentazione al legame tra produzione cinematografica e industria petrolifera, quindi dall'immagine, dalla struttura alla sovrastruttura andata e ritorno, si potrebbe dire. E poi abbiamo cercato di parlare anche in questo caso con questo movimento di andata e ritorno dell'emersione e del sommerso come elementi strettamente legati al petrolio. Per questo abbiamo voluto con forza un articolo sull'oleodotto Tanzania-Zambia. Un'antropologa, Giulia Scotto, un'antropologa urbanista, Giulia Scotto, ci ha accompagnato in questo suo lavoro di campo lungo questa pipeline di fondamentale importanza per il trasporto del greggio, completamente invisibile se non si sa qual è il tragitto che percorre, ma così presente e fondativa della società, del mondo del lavoro, della cultura, del luogo. Questo per parlare di quelli che possono essere i contributi più lunghi. E come giustamente diceva Silvia, per, tra virgolette, onorare il più possibile non solo la natura della rivista, appunto, rivista di storia della conflittualità sociale, ma anche per stare nel presente, per svolgere, insomma, anche la nostra, la funzione militante del sapere, molti articoli sono dedicati appunto ai movimenti sociali che si stanno battendo contro la riproduzione del capitalismo a trazione fossile. C'è una sezione che si chiama Immagini, dove troverete il reportage fotografico e modificato di Maria Paola Marini lungo il tracciato che amplierà il passante di mezzo nella città di Bologna. Questa grande opera, appunto, attorno all'ampliamento del passante autostradale. E Maria Paola Marini ha, come dire, ha fatto insorgere la natura, modificando le fotografie attorno a dove verranno impiantate le nuove pompe di benzina lungo il nuovo passante. C'è un'intervista di Pasquale Menditto a un attivista di Extinction Rebellion Nigeria, questo anche per cercare di ampliare il più possibile lo sguardo non soltanto al cosiddetto nord globale, ma cercare di spaziare il più possibile e quindi di raggiungere anche attiviste e attivisti che in zone molto diverse del mondo, ma in cui appunto il petrolio è così strutturante la società, come si muovono, quali sono le battaglie, quali sono le continuità e divergenze. Poi appunto, la parte fumetto, si chiama Mio, di Fritz Vicari, che è anche, diciamo, ripresa dalla copertina, va proprio a indagare quell'an ancestralità che volevamo far emergere e in questo caso è un incontro tra un uomo primitivo X, diciamo, e il petrolio e come appunto già nel suo primo contatto col petrolio si manifestino tutti quegli elementi culturali e politici che oggi vediamo intrisi nella cultura fossile, quindi la possessività, il conflitto individualista e diciamo appunto proprio in generale anche il patriarcato in un senso, eccetera. E poi appunto, diciamo, la cosa interessante è che abbiamo trovato modi, altre narrazioni per parlare di questo, come appunto un pezzo che parla di archeoplastica, il progetto che va a vedere i rifiuti di plastica che si trovano sulle nostre spiagge e appunto cerca di contestualizzarli e mostra anche quanto la plastica dura, quanto resta, no, si trovano detersivi degli anni 50, giochi degli anni 40 che sono ancora lì, che sono stati buttati al loro tempo e ritornano da noi come nuovi reperti storici. Poi abbiamo appunto anche indagato con il pezzo di Francesca Cireddu un legame tra musica, industria petrolifera, musica e supporti al petrolio e musiche che parlano del petrolio, no? Che è appunto come quella americana degli anni 60, che parlano dello stare sulla strada e del, in certo senso, un altro aspetto dell'infrastruttura petrolifera. Un altro pezzo invece racconta un lavoro fatto nelle classi a Gela e del rapporto tra la comunità, il petrolchimico di Gela e le memorie viste adesso dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole. Infine due interventi hanno trattato da un lato il dibattito sul concetto della petromasculinity, che ovviamente si lega a tutto quello che riguarda la petrocultura, da un punto di vista tanto culturale quanto politico, e un antropologo americano ci ha permesso di tradurre un suo articolo che invece racconta un'esperienza molto statunitense, perché è molto legata al loro sistema giudiziario, che però dà una visione interessante su modi diversi, diciamo, di affrontare la militanza e di fare disobbedienza civile utilizzando le stesse regole che il potere dà. In questo caso lui parla di una possibilità del sistema giudiziario americano di sabotare il processo di base e di lavorare sul sistema della giuria per far sì che si creino dei precedenti per cui i militanti di movimenti ambientalisti, ma non solo, in generale che fanno disobbedienza civile, possano appunto far sì che le pene e i giudizi finali, i processi volgano a loro favore o comunque appunto che riescano, diciamo, a andare a combattere una giustizia che è invece ancora molto legata ai sistemi di potere che sono legati ovviamente alle lobby del fossile, al sistema fossile in generale. Quindi questa è un po' appunto una carrellata dei pezzi che ci sono, poi se avete domande andiamo più in profondità. Bene, grazie mille per questa carrellata molto ricca. Io adesso volevo chiedervi un po' di approfondire, per quanto ovviamente ne avete già parlato, l'aspetto politico e attuale di questo volume, della decisione di farlo. non è un caso che voi siate qui, questo è un climate camp, quindi è un punto di incontro per movimenti che lottano per la giustizia climatica e quindi per un'uscita dei combustibili fossili, un'uscita dal petrolio, come dal carbone, dal gas, come principali fonti d'energia. e da questo punto di vista una cosa che trovo molto opportuna delle vostre scelte è questa capacità di rendere l'intersezionalità che è sempre un po' stata presente nel discorso dei movimenti climatici fin dall'anno Mirabilis, come dice Lale Leonardi, del 2019, insomma in cui c'è stata un po' un'esplosione, ma in cui poi si è dovuto sempre fare uno sforzo, sempre purtroppo insufficiente, di praticare l'intersezionalità in diverse forme concrete, per cui io credo anche nelle foto degli ultimi giorni di Greta Thunberg che viene arrestata con una caffia attorno al collo per aver protestato contro il genocidio in Palestina, vediamo anche un emblema delle trasformazioni concrete del movimento che abbiamo vissuto in questi anni. Sappiamo che il genocidio che sta succedendo in Palestina in questi mesi purtroppo non è dato soltanto da una cosiddetta lobby sionista che influenzerebbe da dietro le quinte la politica estera americana e occidentale in generale, anche se naturalmente gruppi di pressione sionisti esistono e hanno molte risorse, ma si tratta anche di utilizzare Israele come avamposto degli interessi occidentali imperialisti nella regione, soprattutto per quanto riguarda una garanzia degli equilibri di forza volti a ottenere flussi di petrolio e gas costanti che quindi non mettono in pericolo e il capitalismo fossile nei centri di accumulazione del capitale globale. Quindi volevo un po' chiedervi il ruolo politico di questo lavoro che avete fatto, entrambe siete attive come attiviste in diversi aspetti della politica dei movimenti italiani e quindi un po' qual è il ruolo di questo volume. Allora, per ripartire dal doveroso cenno alla questione del genocidio, tra l'altro proprio nell'introduzione al volume abbiamo ritenuto necessario inserire un passaggio sul fatto che la ricerca e l'estrazione di gas a largo delle coste di Gaza non è mai terminata durante tutto l'immane tragedia che si sta consumando. Sono un po' in difficoltà a parlarne e ce lo dicevamo, abbiamo trascorso tutto il viaggio in macchina per raggiungervi a parlare dell'ineffabilità a un certo punto. Invece è molto importante continuare a trovare sempre le parole della rabbia e della richiesta di fermare il genocidio. Quindi sì, abbiamo sentito fortemente il bisogno di inserire questo elemento. chiaramente l'introduzione non poteva ergersi solo su questo aspetto ma è stato fondamentale per noi inserirlo per appunto segnare che questo volume per noi significa soprattutto la possibilità di essere qui e di poter organizzare altre presentazioni in altri spazi come di movimento alla soglia appunto di altre occasioni di mobilitazione e di utilizzarlo come appunto quasi come una scusa in qualche modo per costellare ancor di più l'agenda dei movimenti per la giustizia climatica e sociale che speriamo si possa riempire e radicalizzare anche sempre di più. Dentro il numero probabilmente l'articolo che più ci ha permesso di appunto di stare nel presente e di sviscerare la questione di come i movimenti si stanno opponendo all'estrazione e ai combustibili fossili è quello di Alberto Manconi che forse alcuni di voi conosceranno sociologo e militante che appunto ci ha offerto il suo sguardo interno sui movimenti soprattutto in UK da Just Stop Oil a Extinction Rebellion a Fridays for Future proprio anche come diceva Lorenzo per continuare a tenere i riflettori accesi sulle varie modalità di organizzazione dei movimenti per la giustizia climatica e sociale come questi sono esplosi, come si sono dati continuità, quali battute di arresto, limiti, criticità hanno incontrato e quindi da lì nuove strade da battere, da percorrere per proseguire la lotta. è un articolo che si basa su interviste fatte in un'esperienza di campo piuttosto lunga e che fra quelli che ospitiamo credo sia un po' quello che mi sembra di consigliare di più rispetto alle questioni più organizzative dei movimenti e per chiudere un attimo sull'intersezionalità volevo ritornare al giustissimo cenno che ha fatto Silvia all'articolo di Elena Fusco storica del pensiero politico appunto sul dibattito legato attorno al concetto di Petro Masculinity è un concetto che anche a noi era in qualche modo oscuro l'abbiamo scoperto insieme a questa nostra collega e compagna che ha studiato la sociologa americana Cara Daggett appunto che ha coniato questo concetto che cosa offre in più rispetto alla pratica dell'intersezionalità ecco probabilmente il concetto di Petro Masculinity aggiunge questa specifica legata all'industria del petrolio all'industria dei combustibili fossili per parlare della società in particolare americana e di quella che è anche la polarizzazione del voto americano che si è vista particolarmente nell'ultimo decennio in cui parte del voto parte della polarizzazione del voto passa proprio attraverso la saldatura tra un certo tipo di maschilità collegata a appunto embedded particolarmente embedded nell'economia del fossile è un articolo che presenta anche come dire non fuori come dire non scevro anche da criticità perché porta uno sguardo piuttosto tagliente sulla questione ma di sicuro per tutti e tutte noi che ci interroghiamo su come praticare l'intersezionalità può essere di particolare interesse ma io aggiungo solo una cosa cioè secondo me c'è una questione che appunto di per sé ognuno di questi pezzi è politico nel momento in cui qualsiasi cosa si faccia per andare a interrogarsi e decostruire su tutto ciò che è legato al petrolio ci porta a dei quesiti politici che sia appunto andare a vedere come in Nigeria le politiche internazionali del fondo monetario in realtà non vanno a veramente non sono mirate a portare benessere in quel paese ma a mantenerlo in uno stato di subalternità in cui tutti i soldi fatti dal petrolio a basso prezzo che viene venduto magari a noi servono a pagare il debito con il fondo monetario internazionale e quindi che le persone lì sono continuamente schiacciate tra la necessità di dover usare il petrolio perché è quello che o costa meno comunque è più accessibile e il dover il vedersi tagliati costantemente i servizi di welfare per dover rispondere alle necessità necessità delle sovrastrutture internazionali questo è ovviamente politico però anche il pezzo ad esempio in cui si parla del design oltre il petrolio negli anni 70 ci mostra come in realtà non c'è nulla di ovvio nella nostra società di oggi cioè che in realtà anche negli anni 70 quando nella vulgata di oggi si dice che ma all'epoca chi è che ci pensava a queste cose in realtà no cioè in realtà molte persone in questo caso abbiamo visto dei designer ma non erano solo loro tante persone in diversi luoghi della società e del mondo stavano già riflettendo su come andare oltre quella società fatta in quel determinato modo come andare oltre nel proprio stile di vita che però si legava a un qualcosa che andava oltre il proprio stile di vita singolo cioè come modificare la nostra quotidianità in modo da modificare un sistema industriale politico molto più grande cioè c'era già c'erano degli interrogativi c'era anche qualcuno che aveva dato delle risposte e quindi tutto questo serve a capire qual è stata la controffensiva che invece ha portato a un'affermazione di una cultura petrolifera in cui Reagan è uno dei capostipiti ma non c'è stato solo lui cioè che invece affermava la necessità di mantenere un sistema legato al fossile ma legato al fossile anche appunto da un punto di vista culturale cioè per gli americani l'accesso alle autostrade all'automobile a un certo tipo di cultura fossile era legato al proprio mantenimento di uno stile di vita di cui loro avevano diritto come americani come cittadini della più grande democrazia del mondo eccetera eccetera e la cosa che è interessante è che se si va a vedere questo cosa si vede che in realtà il mantenimento di un sistema legato al fossile era necessario al mantenimento di un certo sistema internazionale perché per quanto Carter non sia stato particolarmente incisivo però lui voleva dare una diversa un po' direzione anche in politica estera agli Stati Uniti cosa che non era accettabile da un certo punto di vista perché la subalternità di un certo pezzo di mondo era necessaria al mantenimento di un primato internazionale che gli Stati Uniti e non solo erano assolutamente interessati a mantenere quindi anche lì si vede come quotidiano globale locale e internazionale sia tutto collegato cioè non c'è un pezzo che sta da solo che da un certo punto di vista è meno importante forse e quindi in questo senso secondo me anche la politicità di questo libro per oggi è appunto continuare a ricordarci anche la non inevitabilità dei processi e di quanto ogni narrazione debba essere decostruita perché dietro al messaggio ad esempio in questo caso dicevo di Reagan di dire gli americani hanno diritto a mantenere il loro stile di vita perché siamo il popolo più democratico più libero eccetera ci sta in realtà dietro dire noi abbiamo bisogno di avere una scusa per mantenere il controllo su certe zone del Medio Oriente per mantenere una certa politica degli armamenti eccetera quindi quello che ho da dire penso sia un po' questo esatto bene grazie mille e parlando di lotta contro il genocidio a Gaza tra l'altro vedete alla vostra destra le foto delle mobilitazioni recenti a Vicenza che come è stato ricordato anche nel corso di altri dibattiti è una città particolarmente interessata da le manifestazioni locali dell'imperialismo globale a causa della lunga presenza delle basi militari americane qui delle lotte contro la loro espansione della presenza più volte all'anno della fiera dell'oro dove sono presenti aziende multinazionali anche israeliane ma non è che le altre siano particolarmente etiche diciamo che quindi si occupano di estrattivismo poi addirittura per la produzione di beni di lusso quindi in un livello di assurdità se vogliamo in certo qual modo anche superiore ma poi quando parliamo di un'uscita dal fossile sappiamo che questa viene sperita nel sistema economico vigente nel capitalismo anche sotto la forma del dilemma ambiente lavoro per cui quando si dice bisogna andare oltre determinate fonti di energia si dice quanti posti di lavoro andranno persi diretti indiretti e questo effettivamente è vero e qual è la distruzione che verrà creata ambientalmente per la creazione di una transizione energetica se fatta dall'alto quindi sulla testa dei lavoratori e delle lavoratrici di processi di democrazia reale per cui insomma è da un paio d'anni ormai che nel contesto anche della mobilitazione dei lavoratori della GKN per una transizione giusta nello stabilimento di Campi Bisenzio ma più in generale a multilivello quindi anche a livello nazionale europeo e globale è quello di scardinare questo dilemma attraverso una transizione ecologica che noi chiamiamo dal basso e quindi che da un lato si ponga il problema di garantire fonti di reddito ai lavoratori e le lavoratrici interessati e dall'altra parte si ponga il problema di andare a creare delle alternative che non siano peggiori del problema o similmente problematiche e quindi anche che escono dalla logica del profitto privato attraverso una trasformazione della produzione ai fini di beni comuni il prossimo anno politico cioè l'anno politico ormai in corso perché siamo di fatto all'apertura anno politico ci presenta molti appuntamenti in merito sia per quanto riguarda il nodo ecologia lavoro sia in altri ambiti quindi volevo dirvi un po' chiedervi come si proietta insomma il vostro lavoro e in particolare questo volume attraverso dei prossimi appuntamenti che ci attendono nei prossimi mesi allora farò farò un intervento campanilista una delle cose che mi riesce meglio però in altronde aver nominato la militarizzazione dei territori come hai appena fatto mi impone di come dire tra le prime date da menzionare per l'autunno che speriamo come al solito sia molto caldo appunto c'è una che interessa la città da dove vengo che è Pisa ormai il 2 giugno del 2022 si è svolta la prima manifestazione contro la costruzione di una nuova base militare sul territorio pisano come forse alcuni di voi sanno sul territorio tra Pisa e Livorno dalla fine della seconda guerra mondiale insiste la più grande base militare americana sul territorio italiano che è quella di Camp Derby non paghi l'idea è quella di tenendo all'oscuro le cittadine e i cittadini fino appunto a un paio di anni fa soltanto un lavoro instancabile dentro e fuori il consiglio comunale ha fatto sì che si scoprisse questo progetto insomma il nuovo progetto è quello di impiantare una base militare per i corpi speciali dei carabinieri il cosiddetto battaglione Tuscania ed altri corpi speciali in un'area che insiste per circa 70 ettari su un parco naturale un'altra parte più diciamo burocratico operativa insisterà sulla città di Ponte d'Era che è a una quindicina di chilometri di distanza e come dire si parla di militarizzazione dei territori si parla di occupazione di territori protetti si parla di economia di guerra cosa c'è di più come dire cosa va più a braccetto con l'economia di guerra se non quella del petrolio e dei combustibili fossili per questo sarà molto importante per noi stiamo mettendo in cantiere fare una presentazione del numero di zaprudere a Pisa proprio in questo crescendo verso la manifestazione che si terrà il 26 ottobre ci sono già alcuni riferimenti sui social del movimento no base né a Coltano né altrove che Coltano è la frazione insomma che dove la parte più grossa della base verrebbe impiantata una base che tra l'altro drena 500 milioni di euro al fondo di coesione sociale quindi a quello degli asili nido delle scuole dell'infanzia eccetera eccetera una grande opera di morte violenza e guerra inaccettabile sul territorio che per fortuna ha fin dalla prima manifestazione del 2 giugno in tutti gli altri appuntamenti ha trovato grande riscontro non solo sul piano regionale ma anche più largo e questo sarà un appuntamento importante se tante e tanti anche di voi riusciranno a venire sarebbe super importante perché appunto poi ne parliamo ne parliamo qui dove il i fazzolettoni del nord al molino sono state le prime cose che vedevo al liceo al mio primo anno e quindi insomma un filo oddio povera scusa e quindi niente lottare contro questa ennesima base militare sul territorio italiano penso si leghi strettamente a questo lavoro più storico di ricostruzione che facciamo anche più che facciamo in questa sede posso fare l'ultimo cenno ma tanto per fortuna avete avuto il bell'incontro con i lavoratori della GKN all'inizio del camp e la tre giorni dell'11-12 e in particolare il 13 ottobre sarà fondamentale per dare finalmente gambe al progetto industriale e il lavoro dell'area industrializzazione soprattutto quest'anno è stato davvero intenso con tantissime battute dal resto soprattutto sul piano istituzionale regionale perché manca ancora una legge per far sì che lo stabilimento sia a disposizione dei lavoratori e non alla mercè di un padrone che non ha previsto nessuna riattivazione in tutti questi in tutti questi anni e quindi sicuramente è l'altro appuntamento che ci sentiamo di sottolineare grazie grazie francesca io vi porto un appuntamento invece bolognese il 21 settembre ci sarà organizzato io so da Extinction Rebellion ma so che c'è stata anche lì una convergenza importante di vari movimenti ci sarà una manifestazione contro la repressione e questo è anche un tema che si lega appunto fortemente a questo volume e a tutto quello che concerne l'industria fossile perché insomma una delle questioni che motiva questa manifestazione più vicina diciamo più vicina a noi nel tempo e nello spazio è avvenuta a Bologna a seguito di un'azione di Extinction Rebellion per l'appuntamento del G7 della cultura cui attivisti e attiviste hanno srotolato uno striscione dal palazzo comunale che appunto recitava la vostra tecnologia o scusate ho un vuoto però mi pare fosse la vostra tecnologia la nostra la nostra morte insomma qualcosa che appunto andava a evidenziare sempre queste questioni qua una transizione dettata dall'alto una scienza che è messa a disposizione della militarizzazione del fossile o comunque anche di innovazioni che però hanno come obiettivo fondamentalmente rafforzato cioè concentrare il capitale in chi già se lo sta concentrando e non la redistribuzione ecco e quello che è successo è che molti sono stati arrestati ma in particolare quella di Extinction Rebellion che era diciamo aveva il compito di dialogare con la polizia è stata sottoposta a non solo appunto procedure umilianti ma anche illegali perché non le è stato chiesto lei ha chiesto costantemente di avere un avvocato durante l'interrogazione la perquisizione che è avvenuta facendola spogliare nel bagno della questura è stata fatta piegare è stato chiesto di fare cose e lei continuava a chiedere l'avvocato non le è stato concesso e dopo nella deposizione che le stavano per far filmare c'era scritto le abbiamo chiesto se voleva un avvocato e lei ha detto di no quindi insomma tutta un'altra serie di questioni hanno portato quest'attivista a esporre una denuncia e adesso sono in moto una serie di cose ma questo è un ennesimo caso in cui si mostra anche una grande non solo un abuso del proprio potere repressivo perché poi sono stati mandati tantissimi fogli di via a ragazzi che studiano vivono lì e che fondamentalmente sì dal punto di vista della legge hanno commesso un atto di disobbedienza civile un atto appunto che può essere visto come problematico ma la cui diciamocelo la cui gravità cioè da un punto di vista del motivo per cui sono nati anche i fogli di via è decisamente sproporzionata quindi un grande abuso di potere e poi ovviamente appunto il grande doppio pesismo ipocrisia nel denunciare atti di disobbedienza civile in maniera anche se incredibilmente proprio condannandoli questa criminalizzazione di questi atti che si sta vedendo anche nella produzione legislativa recente col decreto anti-Gandhi come è stato chiamato e invece la completa impunità di quando questi gesti illegali vengono fatti appunto l'estrazione a largo di Gaza è un'estrazione in cui sta partecipando anche l'Eni ha avuto delle concessioni è un'estrazione illegale dal punto di vista del diritto internazionale perché quelli sono territori palestinesi ma quelle multinazionali stanno estraendo per Israele non per la Palestina quindi questo è uno dei tanti esempi perché poi già di base tutto quello che stiamo vedendo non negli ultimi mesi ma negli scorsi settant'anni comunque c'è un costante divieto violazione del diritto internazionale oltre che dei diritti umani che continua a restare impunita e questo ci mostra chiaramente che il punto non è il problema è se fai qualcosa di illegale il punto è chi sei quando lo e perché lo stai facendo queste sono cose immagino ovvie anche per tutti e tutte voi però appunto questa manifestazione anch'essa penso si leghi fortemente intanto appunto va a parte da questo è uno degli tanti eventi che l'ha fatta diciamo partire però si lega a tutto quello che è il rapporto tra politiche istituzioni forze repressive e movimenti e movimenti dal basso ed è fondamentalmente legata anche questa al rapporto tra sistema attuale sistema produttivo industriale attuale e appunto le istituzioni che usano anche la forza repressiva per mantenerlo bene vi ringrazio direi che siamo giunti a quel momento della presentazione in cui il pubblico può scatenare la propria creatività di conseguenza se ci sono domande ma anche commenti che volete rivolgere alle nostre due ospiti vi invito a prendere la parola avvicinandovi al microfono prego guarda nella telecamera sono contento che c'è del piglio del libro soprattutto per la connessione con la cultura con tutto quello che produce senso ok volevo chiedervi se continuerete nella ricerca e sì assolutamente perché ho da darvi del lavoro nel senso che no no non lavoro nel senso che lì ci sono degli esempi che non hanno a che fare con l'Italia mentre ed è ovviamente basato sul presente quindi è ovvio che l'arco temporale è fondamentale quindi non è che però io vengo da una terra nella quale forse nell'unica parte d'Italia dove siamo riusciti a bloccare un processo di petrolizzazione che è stato in Abruzzo e il problema non è tanto che siamo riusciti a vincere ma il fatto è che vorremmo che i movimenti attuali conoscessero perché visto che non abbiamo un sangue diverso dagli altri cioè qualche cosa c'è stato nel processo nel momento storico nel processo sociale nel nel chi cioè da Lucio Dalla che ci ha dato una mano prima di morire fino a regalarci come profondo il mare come musica della lotta che abbiamo fatto e da tante proprio per stare anche nel fatto culturale tra virgolette perché è importante che per risolvere i problemi di questa natura ci siano anche delle vittorie e dei passi in avanti da un punto di vista proprio concreto oggettivo perché la gente la gente non può lottare soltanto per piangere cioè uno non è che inizia la lotta e dice adesso perderò che bello adesso perdo dopodiché tu provi a vincere a volte vinci a volte no però non è che lo puoi fare non è che lotti per la gloria lotti per qualche cosa e secondo me raccontare anche le vittorie positive le vittorie negative perché ci sono anche delle vittorie negative che ti danno un contentino e ti bloccano completamente ma anche le sconfitte positive le sconfitte negative perché sono cose importanti da questo punto di vista e serve anche un lavoro narrativo cioè che non sia semplicemente abbiamo fatto questo abbiamo fatto quest'altro abbiamo fatto quell'altro che bello bla 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 perché dovreste produrre senso quindi sfruttateci nel senso che abbiamo mantenuto i legami tutto quello che abbiamo fatto in Molise Abruzzo e Marche si è adesso messo dentro la campagna per il clima fuori dal fossile quindi è stata anche importante e quando parlo di sconfitte negative abbiamo anche la sconfitta del referendum sul petrolio la cui ragione fondamentale è il fatto che non c'è stato un processo sociale che l'ha sostenuto perché chi doveva aiutarci devono essere i presidenti della regione a cui hanno perché noi eravamo contrari completamente a dare a Emiliano e a tutti quanti i presidenti della regione l'egemonia politica e culturale per poter fare un referendum che ovviamente abbiamo perso in una maniera pazzesca facendo tornare indietro anche la lotta dei 60.000 di Ombrina che ci avevano fatto vincere quindi ecco sarebbe bello sapere anche cioè far conoscere e ragionare su perché non si finisce mai di ragionare su queste dinamiche sociali perché secondo me sono molto importanti però visto che avete fatto bene io non l'ho letto non l'ho fatto in tempo a leggerlo ma c'è già il taglio così questo mi piace potrebbe essere importante quindi insomma se volete il lavoro c'è diciamo così e poi ovviamente anch'io faccio l'appello ad andare a Coltano con cui siamo legati proprio strutturalmente perché abbiamo messo insieme il tema dei fossili e il tema della guerra che c'è che è un tutt'uno quindi insomma l'intersezionalità va fatta concretamente oltre alle chiacchiere insomma quindi buon lavoro magari grazie allora io raccoglierei un altro intervento due se ce ne sono prima di restituire il microfono alle nostre ospiti c'è qualcosa all'orizzonte mi pare di no quindi prego intanto se volete farlo un commento noi siamo due precarie della ricerca non l'abbiamo detto all'inizio quindi chiunque ci voglia dare un lavoro è benvenuta è benvenuta mi sembra tutto giusto quello che ci ha detto e tra l'altro su Ombrina movimento delle mamme di Manfredonia aiuta mi Silvia non gela ma cosa c'è in Sicilia comunque un'altra serie di proprio rispetto al ragionamento vittorie sconfitte e poi le terre di mezzo è uscito due anni fa un altro numero di Zapruder che si intitola Ambienti Ostili quindi sempre fatto con questo schema che può essere può essere interessante proprio rispetto a queste tematiche infatti alcuni focus che ci avrebbero sarebbero stati interessanti da inserire nel volume erano già stati ripresi da questa da questo da un altro numero della rivista e quindi insomma anche su quello abbiamo fatto delle scelte però sì sicuramente anche nel lavoro di ricostruzione storica e poi di divulgazione che insomma è quello che cerchiamo un po' di fare l'altra faccia cioè come dire l'altra faccia dell'attraversare spazi come questo e quindi legarsi a dei movimenti reali è di tornare indietro e raccogliere quegli elementi che possono ancora cioè che possono essere utili per i movimenti dell'oggi e quindi per come dire per popolare e ripopolare le nostre cassette degli attrezzi quel pezzo di ragionamento su soprattutto sull'Abruzzo in effetti meriterebbe un perché forse su diciamo sull'esperienza marchigiana forse ci sono degli studi sociologici che un po' di più si sono concentrati però sì sicuramente è un campo da percorrere da abbattere grazie io aggiungo solo una cosa che mi ha fatto ragionare il suo intervento ed è un articolo di David Graeber in cui lui ragiona proprio sull'importanza di riconoscere quando si ha vinto ogni tanto che è uno dei problemi anche che hanno lui parla dal suo punto di vista di Seattle ma poi anche Occupy Wall Street in cui lui noi siamo il 99% in cui lui era dentro e diceva c'è questa grande a volte narrazione della sconfitta da cui siamo schiacciati e non ci rendiamo conto che ogni per quanto le cose ancora vanno male ancora le cose vanno male ok però il nostro attivismo ha portato a dei successi e delle vittorie poi lui appunto in questo articolo fa degli esempi ad esempio di un'azione contro il Fondo Monetario Internazionale che era effettivamente riuscita era stato bloccato Unitra adesso non me lo ricordo bene l'ho letto due anni fa tipo questo articolo però appunto dice ogni tanto questa è anche un'arma che forse viene usata contro di noi il farci sentire sempre sconfitti non ti rendi così conto però che se li hai vinto allora forse si può vincere ancora utilizzando seguendo una certa strategia o comunque diciamo scusate il termine brutto capitalizzando meglio su quella vittoria quindi ho pensato proprio a quello che in effetti a volte è complicato anche intanto è complicato perché in effetti le sconfitte a volte sono tante e ovviamente pesano però che è molto vero quello che dice lei cioè che è importante anche ragionare sulle vittorie anche le vittorie a metà per appunto avere anche un'analisi migliore di quello che di quello che si è fatto e rivalutare le proprie strategie in quel senso senza che questa analisi sia una glorificazione fine a se stesso ovviamente dire beh sono stati bravi buona giornata esattamente bene grazie ci sono c'è una domanda prego si vuole avvicinare poi la traduco io si si se la viene a fare qua in inglese poi io la traduco mille grazie mi question è ha chiesto ha chiesto quale ritengono che sia il ruolo delle utopie reali quali può essere questo spazio qui ma come anche può essere il Rojava nel Kurdistan siriano per mostrare alle persone sia quelle colpite dall'estrattivismo petrolifero ma anche quelle che vivono diciamo relativamente comode rispetto al capitalismo fossile delle possibilità concrete di via d'uscita grazie mille per la domanda penso che le utopie reali siano proprio l'orizzonte che comunque ti fa camminare dobbiamo sono con noi nel cammino e molte di queste appunto siccome contribuiamo ad animarle a costruirle ancora di più fanno parte della lotta quotidiana contro il sistema socio-economico vigente se si può sintetizzare così credo e mi viene in mente oltre magari all'esempio di chiaro adesso la realtà di GKN è molto ci ha interessate interessati molto negli ultimi negli ultimi anni proprio perché attingendo a dei a delle sperimentazioni di autogestione del posto di lavoro autogestione del lavoro e anche proprio di ripensamento di un'idea di lavoro forse diciamo nell'oggi può essere o almeno per me è forse l'esempio che appena magari mi viene rivolta una domanda del genere forse la prima luce che mi si accende nella testa ma su un terreno anche tra virgolette meno radicale chiamiamolo così le comunità energetiche solidali che stanno via via nascendo non solo sul territorio italiano ma in tutta Europa e in larga parte soprattutto del nord globale chiaro che come dire non sono fuori dal capitalismo non sono fuori dal nostro assetto di cose ma comunque si pongono secondo me personalmente in una posizione interessante di ripensamento di come gestisco l'energia da quale fonte di energia mi appunto attingo e come la ridistribuisco a livello collettivo è chiaro che è la comunità che è al centro che fa come dire stabilisce le sue regole di questa ridistribuzione eccetera quindi è molto importante prendersi cura e autocurarsi all'interno delle comunità però credo che anche questi esempi che stanno come dire anche istituzionalizzati in qualche modo che c'è una legislazione europea sulle comunità e ogni stato ce l'ha penso che possono essere dei luoghi degli spazi interessanti di democrazia dal basso che sulla questione energetica possono incidere un po' insomma sono molto d'accordo quindi aggiungo solo un pensiero veloce penso appunto che qualsiasi esperienza e narrazione che rompano la grande bugia della fine della storia del fatto che in realtà le persone di queste cose non gliene frega niente che la democrazia liberale fattene in certo modo va bene un po' tutti qualsiasi cosa che rompa questo discorso egemonico che chiude le alternative e che ci dice che questo è il migliore dei sistemi possibili sono fondamentali cioè che sia appunto una piccola attività in un paese di provincia che a pare mio sono le cose più importanti proprio perché vengo da un paese di provincia e che sia appunto un grande movimento in una regione in uno stato qualsiasi tipo di esperienza è estremamente il valore è inestimabile e appunto deve essere appunto rilanciata e queste esperienze devono a vicenda rilanciarsi condividersi sostenersi perché tutto va a comporsi in un grande insieme che serve a rompere questa narrazione che si dice egemonica ma secondo me non lo è del migliore dei sistemi possibili della fine della storia eccetera 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 quindi anche su questo forse bisogna appunto non solo prestare molta attenzione alle realtà altre ma anche quelle che a volte hanno delle diversità politiche rispetto a noi che non vuol dire cioè ok questa realtà è fondamentalmente una comune nazista però fanno cose ambientali no non vuol dire cioè quello non va bene no di base cioè ci sono delle questioni politiche che sono di il break no che su cui non si va oltre però a volte c'è anche una tendenza a fossilizzarsi anche su delle divisioni che ci possono essere anche di pensiero di interpretazione politica o di azione e a bloccarsi nei particolarismi e a portare una divisione anche tra esperienze che invece sono tra di loro sono comunque su un filo comune di proporre una realtà alternativa proporre una realtà inclusiva intersezionale che va a lottare tanto appunto per gli esseri umani quanto per l'ambiente naturale se si vuole fare questa distinzione che è problematica in sé eccetera quindi probabilmente una cosa fondamentale che va fatta è anche cercare che è complicata cercare di andare oltre anche cercare di conciliare le divisioni a volte che ci sono tra queste realtà tra i movimenti tra realtà diverse e provare appunto a collegarsi meglio in tutte queste esperienze che è una cosa molto complessa soprattutto poi quando si va anche cioè è già complessa quando si sta magari in una stessa regione ma diventa ancora più complessa quando si va oltre il proprio continente anche perché poi entrano in gioco altre questioni come prospettive coloniali che magari uno non sa di avere però ce le ha questa cosa anche può succedere ecco ottimo abbiamo tempo per un'ultima domanda o intervento se qualcuno è interessato o interessata ma altrimenti volevo dire anche io una cosa al volo cioè riflettavo sul fatto che un aspetto interessante della produzione basata sui combustibili fossili e della petrocultura poi che ne deriva è anche quello che viene dopo nel senso sia in siti di estrazione sia in siti di raffinazione e processamento del petrolio anche una volta che questi siti di produzione vengono chiusi la legacy quindi l'eredità dell'estrazione e processamento del petrolio permangono nella forma della contaminazione per cui sappiamo per esempio che Eni ha devastato la Nigeria come molti altri paesi da questo punto di vista rimanendo più vicino a qui le produzioni che sono state fatte per decenni a Marghera in particolare il petrolchimico ma non solo quello hanno contaminato i territori e le acque per periodi di molto superiori ai pochi decenni di fatto in una prospettiva di lunga durata in cui sono state attive generando anche la contraddizione operaia al proprio interno e quindi anche le lotte che hanno permesso di guadagnare diritti e anche le lotte che sono poste il problema della nocività però adesso che la torre del cracking del petrolchimico di Marghera è stata definitivamente spenta nel 2022 nell'aprile del 2022 noi abbiamo un'enorme estensione di terreni contaminati che quindi non possono essere dedicati ad altri usi lo sa bene il sindaco di Venezia Brugnaro che ha comprato il terreno dei Pili per 5 milioni in quanto contaminato dalla produzione questa più che altro di fertilizzanti fosfatici e poi ha tentato di rivenderlo a 150 milioni dicendo all'investitore di Singapore ma si tanto lo bonifichiamo a spese pubbliche e poi un extra profitto diciamo non da poco per cui la mia curiosità se volete dirmi qualcosa brevemente è se in qualche modo questo compare anche nel volume o se in qualche modo è uno spunto che vi risuona e poi possiamo avviarci credo a conclusione perché dobbiamo liberare lo spazio allora gli illuminanti contributi di un sociologo trevigiano Lorenzo Feltrino non so se lo conoscete sul concetto di deindustrializzazione nociva sono li abbiamo ben presenti non popolano particolarmente il numero purtroppo perché nel numero di Zapruder precede tre numeri precedenti ambienti ostili viene trattata in maniera più specifica sia la questione del petrolchimico di Marghera sia non mi sta venendo in mente purtroppo il nome del petrolchimico di Augusto di Priolo Priolo quindi Augusto Priolo in Sicilia e quindi in quei contributi emerge 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 molto di più che cosa significa la lunga durata della nocività nei luoghi prima deputati alla produzione successivamente questa cessa che cosa resta che cosa succede dopo appunto c'è un numero in cui se ne parla maggiormente tra l'altro una situazione del genere sta per precipitare su un altro polo di raffinazione piuttosto importante non grandissimo ma insomma quello della stanich di stagno alle porte di Livorno per cui è previsto non è ancora previsto nessun piano né di come si dice di transizione ecologica nel momento in cui verrà del tutto spenta la parte del cracking né un piano di di riqualificazione di come si suol dire di reskilling di chi lavora nell'impianto per andare ad occuparsi di altro quindi sono fenomeni per non parlare ora uscendo un attimo dal petrolio per non andare in altri comparti come può essere quello dell'acciaio che anche esso vede sul territorio italiano proprio la molteplicità cioè l'intreccio di tutte queste molteplicità di problemi la cessazione della produzione che porta più quasi uguale o più nocività del pregresso mancanza di prospettiva per i lavoratori appunto aree da da svendere piuttosto che da che da bonificare quindi no assolutamente temi su cui bisognerebbe lavorare moltissimo perché appunto lo scavo storico e la ricerca sociologica si fanno come dire strumenti imprescindibili proprio per aggredire i problemi del presente ma io dico solo forse in questo numero esatto Ravenna in questo numero non c'è da questo punto di vista però c'è un po' un'analisi simile dal punto di vista delle comunità umane cioè il lavoro che c'è su Gela qui quello che è stato fatto nelle scuole in un certo senso può essere vista come un'analisi simile ma è più sull'impatto che ha avuto su una comunità che in certo caso magari non si può parlare forse di inquinamento di una comunità perché poi in realtà è interessante la comunità che è stata plasmata dalla presenza del petrolchimico però c'è anche questo aspetto nella deindustrializzazione nel decommissioning e tutto cioè c'è anche un aspetto che è legato alle comunità che si di lavoratori lavoratrici e tutto quello che poi è legato a queste comunità che vengono create poi dopo appunto non solo come fai cambiare le skill di questi lavoratori come le cambi ma anche poi quello che hai creato lì le infrastrutture e tutti i legami che sono stati creati anche lì c'è un tema di riqualificazione bruttissimo però insomma per farmi capire quindi forse qua in questo numero abbiamo visto un po' questa cosa più da questo punto di vista ma anche perché appunto c'era c'era anche un numero molto ravvicinato che ha guardato più a questi temi qua però c'è un legame che sono estremamente ancora oggi estremamente attuali perché ci saranno un miliardo di realtà già solo in Italia che dovranno cioè bisognerà capire come andare oltre e ovviamente se lo aspettiamo cioè bisognerebbe farlo dal basso però abbiamo tutti da lavorare speriamo di trovare pure il reddito così facciamo quadrare il cerchio e detto questo io vi ringrazio a tutte e tutti per averci ascoltato e vi chiedo un applauso per le nostre due relatrici e ci vediamo nei vari appuntamenti di quest'autun e grazie alla traduttrice grazie grazie mille grazie